In Sardegna la pandemia continua a regredire con dati che avvicinano sempre più la curva allo zero. Anche nell'ultima settimana, nonostante il cluster individuato in gallura sul set della Disney, l'isola mostra numeri positivi che le permettono di guardare con un certo ottimismo al futuro. La Sardegna infatti anche nell'ultima settimana si conferma in zona verde europea e zona bianca nazionale. La certificazione arriva dal report settimanale della Fondazione Gimbe, che ha elaborato i dati relativamente al periodo 16-22 giugno. In questo lasso di tempo si è registrato un ulteriore calo del numero di positivi per 100.000 abitanti, che sono stati 151, con una diminuzione del 58,4% rispetto alla settimana precedente. Il rallentamento della diffusione del virus ha portato ad un'ulteriore riduzione della pressione sulle strutture ospedaliere, con un tasso di occupazione dei posti letto in area medica pari al 3% e in terapia intensiva del 2%. Migliorano anche i dati sul fronte della campagna vaccinale. La percentuale di popolazione sarda vaccinata è del 24,5%, cui va aggiunto il 29,4% solo con la prima dose. La media nazionale è del 27,6% per quanto riguarda le due dosi e del 26,5% con una sola dose. Nelle ultime 24 ore nell'isola sono state somministrate 20.395 dosi di vaccino, che portano il dato complessivo delle inoculazioni a quota 1.259.208, pari all'83,7% del 1.504.095 dosi consegnate. Rimangono alcune criticità sul fronte alla vaccinazione e alle categorie fragili. Secondo il report della Fondazione Gimba, gli over 60 che non hanno ricevuto alcuna dose sono il 17,6%. In particolare nella fascia 70-79 anni i vaccinati sono il 48,8%, cui si aggiunge il 43,9% con la prima somministrazione. Gli over 80 vaccinati sono l'80,1%, cui si aggiunge un ulteriore 9%. Grazie a tutti.